Nell'orto degli ulivi sono sfiniti gli amici di Gesù e cadono distesi e addormentati perché oggi troppe cose e troppo grandi li hanno emozionati. Gesù non può dormire e il suo cuore è sveglio perché pensa a quello che dovrà presto accadere e guarda i suoi amici che non possono capire e sono molto stanchi e riescono soltanto a dormire. Gesù è molto solo e vorrebbe insieme a lui qualcuno per pensare e pregare e chiama Pietro il primo degli apostoli. Forse almeno lui potrà capire ma sono troppo stanchi i suoi occhi e subito si mettono a dormire. Rimane solo Gesù e dici al padre se tu vuoi non farmi tanto soffrire ma se tu vuoi io tutto accetto quello che sta per accadere per fare la volontà del tuo amore.